Immaginare che noi siamo stati immobili, perché di questo si tratta, per 30 anni e in un colpo solo arriviamo alla newsroom unica, questo non mi sembra immaginabile, non mi sembra per nessuna ragione, non mi sembra una cosa fattibile. Ho invece un grande sospetto, che dire abbiamo in mente una riforma migliore che parte da un'altra parte, globale, caschi un po' in quell'ambito, la settimana scorsa c'era un pezzo molto carino che ha scritto Francesco Piccolo sul Corriere della Sera e che parlava del fatto che le riforme forse per loro stessa natura sono imperfette o comunque che il sognare la riforma migliore di tutte ti porta poi a conservare l'esistente. Conservare l'esistente in questo momento per la nostra azienda vuol dire decidere che si vuole una RAI residuale, immobile, pesante nel momento in cui, e certo non sfuggirà a quest'aula, ci sono competitor stranieri assai più aggressivi, veloci e con interessi determinati che si stanno muovendo con un'agilità e una spregiudicatezza nel nostro mercato senza precedenti. E' una scelta politica, va bene? La lasciamo ferma, perfetto. Poi però non ci lamentiamo della RAI carrozzone, la RAI va messa in movimento. Questa è una riforma giusta, non lo so. È sicuramente nella buona direzione. Sì perché ci sono dei modelli internazionali che corrispondono a questa logica. Vedete, l'altra cosa per la quale l'all news e quindi un'idea di news gathering può essere centrale è proprio perché in questo percorso in cui si va verso il digital first, e lo stanno facendo tutti, si va sempre più verso la produzione di un prodotto che non è in sé già il servizio del TGX o il pezzo del web. È un prodotto all'interno del quale messo in un flusso che poi può essere ristrutturato e rimodellato a seconda di quello che è l'utente finale.